Musica Amiche e amici di Rossini TV, benvenuti a una nuova puntata di Casa Rossini in questa seconda stagione che prevede questa edizione per così dire slim, sottile ma densa, molto densa la formula è nuova perché in ogni puntata noi ospiteremo un nostro ospite al quale faremo un sacco di domande per cui formula slim ma intensa, oggi siamo in compagnia di Roberto Forni, buongiorno Roberto Buongiorno a tutti, grazie di avermi invitato qua, sono molto contento di essere a Casa Rossini Visto? Siamo in questo salotto così accogliente, la casa della nostra tv, insomma questo è lo spirito col quale stiamo accogliendo i nostri ospiti. Allora Roberto Forni, titolare e socio della Della Rovere Office & Contract me lo sono segnato perché c'è questa parte inglese insomma che va spiegata direi, no? Esatto, esatto, siamo un'azienda, io ho un socio che si chiama Danilo Caravaggio che salutiamo che è un'azienda che esiste da 30 anni, è stata fondata da mio padre che già faceva mobili per la casa e se l'azienda fosse ancora viva, la FBL per qualcuno magari qui di Pesaro la conoscerà probabilmente avrebbe 46-47 anni e quest'anno ricorre il trentesimo anno della nostra attività noi siamo un marchio veramente riconosciuto nel mondo per i nostri arredamenti d'ufficio noi facciamo design, vero, quindi ci impegniamo a fare delle cose originali che poi proprio il nostro fiore all'occhiello, quello che ci viene riconosciuto da tutti uno potrà sempre dire mi piace o non mi piace un mobile di Della Rovere poi non potrà mai dire che non è originale, ci investiamo un sacco di tempo per farlo abbiamo lavorato con Archistar come Karim Rashid che hanno disegnato scrivanie uniche come la 1, la 0 in materiali assurdi, innovativi come il poliuretano compatto ad alta densità invece del solito legno, oppure la vetroresina, materiali faticosissimi da lavorare quando si è stato proposto il disegno nel 2008, nel 2007, poi uscito nel 2008 non sapevamo come realizzarli, beh queste sono diventate due icone del mondo dell'arredamento d'ufficio presenti in tanti musei nel mondo di arte moderna in maniera permanente e addirittura nel 2008 la scrivania 1 di Karim Rashid ha vinto il Good Design Award dall'Ateneo Museum di Chicago come il miglior design di scrivania al mondo ecco spiegato perché design fa parte proprio praticamente della vostra quasi ragione sociale insomma la chiave principale è realizziamo ma soprattutto disegniamo e disegniamo non solo quello che è appunto l'elemento ma disegniamo un modo di vivere nell'ambiente lavorativo, questa è un'altra delle formule che voi proponete no? Assolutamente sì, cioè noi passiamo la maggioranza del tempo o nel letto oppure nel mondo dell'ufficio, nella nostra schivania nel posto dell'ambiente di lavoro fare le cose bene, quindi progettarle, la parola contract, rientra tra le cose che noi facciamo insieme spesso gli architetti dei nostri stessi clienti in maniera di rendere al massimo confortevole il posto di lavoro, chiaramente qui c'è tanto da capire di ogni singola azienda perché non tutte hanno le stesse esigenze, chi vuole raggruppare gli stessi dipendenti, chi le vuole in maniera singola chi le vuole un po' e un po' l'utilizzo delle sale riunioni, le pareti attrezzate quindi riuscire a trovare un giusto connubio per ogni singolo cliente non è banale diciamo che come azienda siamo imperfetti, anche come persone è evidente però conosciamo bene il nostro mestiere e in questo caso noi non siamo mai contenti finché il nostro cliente non è contento Io sono andato a vedere il vostro sito naturalmente perché oggi come oggi è la vetrina principale di solito da lì si capiscono tante cose e la prima cosa che si capisce è che il sito può essere fatto bene o male poi dopo che qualcuno fa il sito bello e poi dopo magari c'è meno sostanza qualcuno non riesce a farlo bello e la sostanza è tanta e lì dopo ci si confronta con la realtà il vostro sito è molto ben fatto ma anche la vostra attività è molto ben fatta e mi ha dato subito l'idea di qualcuno molto attento a quello che sta succedendo sai perché? Perché sono andato a vedere e ho visto quest'idea dello smart working dico ma a cosa c'entra? E invece no, giusto, ci sta in pieno con quello che hai appena detto voi state attenti agli ambienti di lavoro nel momento in cui la pandemia ci porta a ragionare di un ambiente di lavoro casalingo voi cosa fate? Create anche una linea dedicata all'allestimento di uno spazio casalingo per lavorare assolutamente sì, noi abbiamo creato giustamente qualcosa che potesse essere utile anche diciamo al mondo della casa e in questo senso l'abbiamo fatto in maniera sempre elegante logica, funzionale, però io qualcosa sullo smart working bisogna che lo dico e mi rifaccio qualcosa che dice sempre mia moglie sui film che io amo guardare e lei non ama guardare il classico di uomo e donna, quello romantico delle donne, quello d'azione degli uomini che dice che le migliori film di fantascienza che partono con le armi più fotoniche finiscono sempre con il buono e il cattivo che fanno pugni, no? classico, no? Come va Spencer a Trensil ecco io credo che lo smart working sia una buona cosa ma fino a un certo punto certo abbiamo la necessità di fare i famosi pugni, passatemi l'associazione di frase con il lavoro perché il team si fa solo veramente al lavoro quindi quello per me è un momento importante, speriamo che passi ma vivere tutta la vita a casa, quindi la vita familiare, l'attività familiare l'attività lavorativa è troppo, quindi piano piano tutti ci stiamo riappropriando del mondo ufficio reale, poi dopo che alcune cose per fortuna si possano fare anche da casa questa è veramente una cosa bella dei nostri tempi quindi noi siamo l'1% di quello che abbiamo fatto per lo smart working però crediamo fermamente al mondo arredamento ufficio, l'ufficio vero dove si lavora tutti in team certo, mi trovi d'accordo e io l'ho segnalato solo per far capire ai nostri telespettatori quanto la vostra azienda sia attenta a quello che succede cioè si va sulla base di certe idee, di certi concetti, di certe formule di alcuni studi fatti di design però si sta anche con gli occhi aperti se succede una cosa voi siete pronti a inserirvi in quello spazio e quando ci siamo sentiti per telefono mi hai raccontato una cosa molto divertente sulla nascita dell'azienda perché ne hai fatto cenno adesso hai detto la tua famiglia, tuo padre, la FBL poi a un certo punto invece dalla FBL per gemmazione nasce un'altra azienda che poi diventa della rovere ma è stata una gemmazione impegnativa e strana da quello che vi hai raccontato beh sì, allora qui a parte ci vorrebbe mio padre presente ma comunque diciamo che mio padre faceva i soggiorni i soggiorni oggi sarebbe il living, la zona giorno e riceve una commessa di 12.000 camere per la Libia 12.000 è un numero incredibile, un ottavo della città di Peso 12.000 camere tantissimo, matrimoniali per la Libia perché all'epoca il signor Gaddafi dava oltre alle case ai propri abitanti, ai propri cittadini anche proprio l'arredamento dal frigorifero o qualunque cosa grazie a un contatto, non saprei bene, io ero un ragazzino, non mi ricordo molto bene sta cosa però insomma fanno queste 12.000 camere che sono una cosa diversa da quella che facevano e non potevano lasciare il core business di quel periodo quindi cosa fanno? Prendono un capannone, lo prendono a Calcinelli, il primo libro, vanno a prendere operai qua e là parte questa produzione in un mese di preparazione, 6 mesi di consegna tra l'altro sottoscritto all'epoca avevo 18 anni perché avevo appena preso la patente mi ricordo bene e i tre mesi estivi ho lavorato a fare queste radio in fondo incredibili, radio con le manopolone, con le plafoniere, quelle proprio con la barretta perché anche nelle case popolari Gheddafi comunque voleva che fossero messe tutte le caratteristiche e le caratteristiche tipiche insomma dopo queste 12.000 camere, non ricordo bene ma ne fece altre 3-4.000 il signore in contatto muore, non so per quale ragione, muore e dopo di sta azienda non si sa bene cosa fargli fare prima si fa un tentativo in un modo, poi in un altro poi in un altro ancora, alla fine facciamo mobili d'ufficio però toccava dargli un nome bello, no? e allora siccome nel Monte Feltro i miei padri piacevano i Della Rovere nasce sta cosa dei Della Rovere tu mi hai detto prima Della Rovere Office & Contra perché? perché Della Rovere è un bellissimo nome veramente bellissimo contiene al suo interno anche Rovere che è una parola del legno anche se non è proprio questa però dire che cosa fai è importante perché potrebbe essere qualunque cosa da un ristorante a... e allora mettendoci su fisso Office & Contra abbiamo finalmente chiarito magari per quei pochi del settore che non sanno cosa facciamo chi noi siamo dopo un nome nobiliare come questo bene e naturalmente in questa ricerca di design voi vi siete affidati mi hai fatto qualche nome prima ma qualche altro nome me l'avevi fatto me l'avevi appuntato Andrea Stramigioli Stefania Tognoloni che poi ha portato alla creazione di questo marchio che vi siete inventati in tempi recenti esatto esatto diciamo in occasione del trentesimo anno una piccola premessa allora noi gli architetti li prendiamo sempre che non abbiano mai disegnato arredamento d'ufficio ma la cui mano ci piaccia ok? quindi cosa succede? perché facciamo questo? perché l'architetto di per sé a me piacciono tanto hanno veramente una fantasia migliorano il nostro mondo dove viviamo e se uno ha disegnato tante scrivanie o tante seglie d'ufficio quello che è dopo ha la mente un po' come la mia un po' chiusa perché vede sempre le stesse cose non avendolo mai fatto ho una mente aperta tant'è vero che realizziamo cose uniche ecco l'ultima è la signora Stefania Tognoloni di Rimini che è un architetto bravissima che al quale ho dato un compito difficile di creare un mobile una serie di collezioni di livello molto alto quindi inserendo la pelle il legno tutte cose ecologiche ecco pelle e legno riciclato però facendolo di un livello molto importante ecco lei è stata bravissima e una volta che abbiamo visto cosa sta venendo fuori ci siamo detti beh è il caso di dargli un valore aggiunto un valore elevato e allora abbiamo fatto nascere il brand i rovereschi da della rovere nascono i rovereschi un po' come da Michelangelo Michelangeleschi Raffaello Raffaellesco quindi rimaniamo sempre noi perché già della rover è un brand name il quale si eleva facendo i rovereschi e abbiamo fatto questa collezione che sta veramente uscendo in questi giorni ma già avendo un successo importante prima di venire qui ho avuto la telefonata di un mio cliente importante dell'Arabia Saudita che martedì verrà qua col suo cliente perché deve vedere tanti prodotti ma noi non facciamo prodotti per gli armi noi facciamo prodotti per tutti anche perché vorrei togliere dalla testa di tutti il fatto che l'arabo non abbia un buon gusto il tedesco il gusto è quello quindi noi facciamo cose belle che piazzano prima noi poi dopo e dopo trovate chi nel mondo incontra il vostro gusto e lo trova esatto e c'è nel mondo c'è tanto mercato? allora una risposta simpatica il mercato qua è al martedì di solito negli altri parti del mondo non lo so allora il mercato c'è sempre ovunque ricordiamoci che comunque siamo una piccola azienda e c'è sempre spazio di crescita chiaramente ci vuole sempre un motivo per esistere e noi siamo un'azienda che punta veramente sul design e servizio è una domanda fatta a tantissimi dei nostri clienti che spesso sono distributori rivenditori è stata perché compri da della rovere che è una bella domanda non è per il prezzo non è per per tante altre cose perché non siamo un'azienda di prezzo sebbene abbiamo qualunque tipo di scrivania anche quelle economiche per noi però non per il mercato basso e la risposta è stata per il design e l'originalità e per il rapporto umano e il servizio che ci date ecco quando noi incontriamo qualche cliente rivenditore distributore nel mondo in Italia che ha questo concetto noi ci lavoriamo bene e lui lavora bene con noi e anche perché amiamo il discorso del team il concetto del team la squadra per noi la squadra è tutto non siamo un'azienda da mordi e fuggi compri una volta un orologio è finito noi siamo un'azienda che ha bisogno di avere intorno a sé qualcuno che gli fa fare un progetto che ha bisogno di cose spesso complicate ha bisogno anche di una parte di servizio che è su misura perché gli uffici purtroppo per fortuna non sono mai uguali quindi c'è sempre qualcosa da fare prima di andare in onda mi raccontavi di questa escursione che avete fatto sul territorio a frontone eccetera e io ho visto questa luce che mi piace sempre trovare negli occhi delle persone con cui parlo questa luce di passione nei confronti di un territorio voi siete un'azienda radicata sul territorio perché l'abbiamo detto un attimo fa nascete addirittura da un'azienda che era già una delle più importanti del territorio oltre quasi 50 anni fa e chi lavora sul nostro territorio e però ha una una vista panoramica sul mondo mi fa sempre venire in mente una domanda ti è mai venuto in mente di spostarti cioè oppure ti è mai venuto in mente che mannaggia sono qui ma se fossi in un altro territorio lavorerei meglio? bella domanda questa allora molti me l'han detto me l'hanno proposto e mi hanno insistito su questo argomento qua io penso che ci vuole innanzitutto coraggio a vivere nella propria nazione regione paese e questo non vale per noi di Pesaro qualunque posto secondo io sono radicato qua e ritengo che ci sono delle cose che vanno messe assieme uno è lo spirito di appartenenza ma l'altro è la qualità della vita cioè io so che per fare certe cose di cui non ne sento il bisogno e non mi sembra neanche una cosa tanto adatta a me ok bisogna pensare proprio al discorso della qualità della vita io so perché giro il mondo che qua si sta bene e io so anche che se volessi aprire una fabbrica da un'altra parte dovrei giocare l'asso di briscola cioè il sottoscritto che deve fisicamente andare a vivere là io ho una famiglia ho tre figli una moglie ho un gruppo di amici ho una serie di come ogni persona e do tanto valore a questa cosa quindi mi piace riuscire qua dove siamo noi fino a oggi dopo 30 anni ci siamo quindi qualcosa di buono l'abbiamo fatto e questo è molto bello devo dire è una domanda che ho voluto fare proprio in questa sede rivolgendoci a un pubblico televisivo che ci segue dal nostro territorio proprio perché è una cosa che sta uscendo molto spesso nelle interviste che io faccio questa passione e questa integrazione vera con il territorio questa voglia di lavorare di starci che fa arricchire poi il territorio perché alla fine avere o non avere un'azienda come la tua nella nostra area è elemento migliorativo cioè averla è meglio che non averla per tutto un discorso di lavoro per tutto un discorso di interazioni e tutto quello che fa sì che la nostra provincia sia il nostro territorio sia sempre più seguito e apprezzato anche da fuori per cui sono convinto che aziende come la vostra come la tua ma come tante che si muovono bene sul territorio facciano un servizio anche alla collettività al di là del fatto che poi comunque c'è un discorso anche di ricaduta dal punto di vista del lavoro adesso parliamo di dipendenti parliamo di famiglie parliamo di persone che lavorano la parola impresa esatto un imprenditore fa un'impresa e devo dire che in Italia è proprio un'impresa su questo dopo 30 anni lo posso dire ci sono degli ostacoli che sono assurdi assurdi veramente assurdi per cui tu devi devi far tante cose c'è un socio di maggioranza che è lo Stato capito ci sono se avessi la bacchetta magica cosa che colpo daresti per fare cosa dopo diventi impopolare no ma una bacchetta magica diciamo una bacchetta magica buona dai una bacchetta magica no io sicuramente cambierei il modo di retribuire i dipendenti cioè per intenderci se un dipendente prende mille euro non prende nessuno mille euro però giusto per fare un esempio noi ne paghiamo due e due allo Stato ma quel mille cento o mille due di differenza è per la pensione per la cassa integrazione eccetera io preferirei pensare meno blocchi mille otto di stipendio e quattro di tasse mille sette cioè dobbiamo dare più potere di acquisto a questi signori meno vincoli agli imprenditori a loro stessi perché se tu riesci a far girare i soldi è un'economia bisogna avere un po' di coraggio cioè bisogna che anche lo Stato sia un po' imprenditore se posso dire una cosa in questo periodo di pandemia secondo me per la prima volta negli ultimi due anni forse come quando ci sono le guerre per fortuna non l'abbiamo mai viste ma lo Stato ha fatto quello che doveva fare nel bene o male sicurezza salute servizi tutto quello che cominciava con la scuola tutto quello che comincia con la S perché ha lasciato perdere tutte le altre si può dire pataccate tutti questi si è concentrato sui motivi principali che secondo me sono quelli strutture, strade tutte queste cose qui questo secondo me è stato un bene di questi anni io lo penso veramente mentre quando le cose van troppo bene ci perdiamo in discorsi su discorsi su discorsi che complicano solo la vita ai nostri telespettatori in questi ultimi due minuti cosa diciamo visto che la tua azienda è sul territorio ma comunque ha questa visione prospettica sul mondo può esserci tra i nostri telespettatori un potenziale cliente o comunque che cosa che cosa raccontiamo a chi ci sta seguendo è una domanda difficile allora perché normalmente tolto l'imprenditore l'ufficio acquisti o l'architetto che influenza l'imprenditore chi lavora su una scrivania la subisce non la sceglie a differenza di un divano che dice che per casa mia la sceglie io quindi la maggioranza delle volte la subisce beh dico suggerite agli imprenditori se ci sono meglio agli uffici acquisti eccetera di scegliere della rovere perché fondamentalmente porta bene e questa cosa per esempio ce la ricordiamo oltretutto è molto confortevole vivere su della rovere ma se è uno spettacolo d'altra parte insomma commerciale l'abbiamo detto l'altro socio di cui hai fatto cenno è che salutiamo in chiusura Danilo lo consideriamo nella parte amministrativa e tutto il resto sì fornitore amministrativo ma ognuno ha un ingarnetto importante esatto non c'è nemmeno dipendenti soci tutti abbiamo una funzione importante esatto però una cosa sul commerciale perché dopo uno confonde commerciale con commerciante che non è per me è fondamentale che chi va a vendere dica la verità con passione certo cioè non c'è altro sembra che uno deve intortare l'altro tanto viene fuori è tutto molto vero se uno non fa le cose le dice le cose io non riesco a dire mai una bugia per esempio bisogna dire le cose con passione con verità e convintamente poi se si riesce bene se non si riesce hai fatto del tuo meglio Roberto ci hai convinto con un saluto a tutta della rovere compreso appunto Danilo Caravaggio per un attimo mi sfuggiva il cognome invece lo diciamo non si poteva dire Caravaggio Caravaggesco esatto Caravaggio quello potrebbe essere una prossima linea chi lo sa noi ti ringraziamo per essere stato con noi magari se c'è la possibilità ci rivediamo anche in un'altra occasione molto vero il saluto di Casa Rossini il soggiorno per dirla con un gergo di ormai di qualche tempo fa il soggiorno di Casa Rossini è a tua disposizione tienici informati sugli sviluppi dell'azienda e su come vanno i rovereschi e tutte le altre linee grazie grazie a tutti i nostri telespettatori per essere stati con noi l'appuntamento è a una prossima puntata di Casa Rossini con un prossimo ospite rimanete sempre con i programmi di Rossini TV e ancora grazie Roberto Forni grazie a tutti buona serata